Il prossimo concorrente ed ultimo concorrente della categoria Junior per questa puntata nel concorso Canoro 100 canzoni. Scopriamo insieme di chi si tratta. A 9 anni viene da Villafranca Tivena per la categoria Junior Giulia Arceri. A 10 anni viene da Villafranca Tivena. 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 Sono un altro e la mia stessa, sono un po' da perdere Sono diventata questa, senza neanche accorgermene E' brava Giulia, è brava Giulia Te la ricordi questa canzoncina è brava Giulia Un pochettino, forse quando è uscita questa canzoncina Maestro Curro, quando è uscita la canzoncina è brava Giulia Forse lei non era forse neanche nata Allora, Giulia Ceri, vogliamo ricordare al microfono e davanti alla telecamera Quanti anni hai, da dove vieni? Ho 9 anni e vengo da aprire la canzoncina Ok, e concorre naturalmente per la categoria Junior Grazie, bocca al lupo anche a te, tesoro Allora Adesso Adesso